Sapete, Titans, dopo aver salvato il mondo, credo che sia il caso di festeggiare... Sì! Mettiamo in moto la festa! Cibo a volontà, balli scatenati e ogni genere di intrattenimento vogliate. Un DJ, una rock band, un mago, basta dirlo! Un clown! Cosa? Abbiamo detto... Un clown! Scusate, che cos'è un clown? Questo è un clown, Stella. Cosa fanno? Cosa fanno? Beh, fanno divertire i bambini. Come si può avvicinare la natura? Odia un bambino! No, Stella, i clown sono una forza, credimi. Sì, amiamo i clown fin da bambini. Troppo forti! E poi con quella loro musichetta... Quando la sento so che sto per divertirmi. O che è il furgoncino dei gelati. E quindi sì, i clown. Non ne vediamo uno da anni! Già, i clown vanno bene per i bambini piccoli. Siete troppo vecchi per i clown. Ah sì? Com'è la sesta stagione di Pitti Pitti Pegasus? Oh, mamma sì! Allora, Fagiolina e Scintilla devono salvare Regia Libine, che è rimasto imprigionato dentro la glassa di una turda colpuntata. È completamente diverso. Ah, quindi dovrò davvero ingaggiare un clown? No, 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 no! No, no, ti prego, ti sopplico a non farlo! Ti prego, ti scongiuro! Un clown! Vada per il clown. Grazie a tutti